Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su PALWORD Io so che voi avete visto live, gameplay, chi si è informato, ha cercato informazioni ma potevo esimermi dal portarvelo qua sul canale Sì, potevo farlo perché nessuno me l'ha chiesto ma, 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 ve lo volevo comunque portare a titolo informativo per farvi vedere che diavolo è sto gioco, come funziona vedremo un attimo un po' di cose, tutto quello che si può fare in questo gioco Allora, prima di cominciare, ovviamente, importantissimo dire che PALWORD è un gioco, la versione che sta girando adesso è una beta il gioco ufficiale uscirà poi a febbraio gioco disponibile attualmente solo per Xbox e PC quindi solo per Xbox e Steam, banalmente se avete l'Xbox con il Game Pass il gioco sarà gratuito infatti l'ho scaricato per quello mentre con Steam si aggira intorno ai 30€ ma che cos'è PALWORD? PALWORD è un survival monster collector game quindi è un gioco survival, voi avete il vostro personaggio da creare quando comincerete il gioco, attualmente con la beta non è modificabile poi una volta cominciato il gioco ma, ma, quanto sembra, pare che quando uscirà il gioco ufficiale durante l'avventura potremmo modificarlo comunque quindi è un survival, voi vi troverete in questa zona, in questo mondo, in queste isole eccole qua queste sono le isole esplorabili, poi vi farò vedere un attimo e dovrete appunto sopravvivere quindi, craftare roba pietra, legna, bacche, cibo, strumenti e quant'altro per sopravvivere perché avete adesso se me la fa vedere, anzi facciamo così avete il livello del personaggio con i suoi punti vita ovviamente potete morire all'interno all'interno del gioco e sotto ai punti vita c'è la sezione cibo quindi dovete anche mangiare perché se avrete fame, appetito sarete più stanchi, eccetera tutto quello che poi comporta il survival più Monster Collector perché abbiamo i PAL che sono palesemente Pokémon cioè questo è un coso, è la capra di Spadescudo sono palesemente Pokémon che noi dobbiamo, possiamo volendo catturare all'interno dell'avventura che ci daranno una mano alla base nel creare la base, nel trovare e farmare strumenti in sostanza, noi, dentro questo cazzarola di gioco che cazzarola dobbiamo fare? allora, noi oltre a catturare Pokémon e sopravvivere in questa landa desolata abbiamo l'obiettivo di crearci la nostra base che la mia è questa lo so, fa schifo, è parecchio brutta ma quando farò poi la seconda base la farò molto meglio, molto più ampia ho messo giusto le cose così a caso per vedere un po' il da farsi prima cosa abbiamo il tavolo da lavoro dove possiamo, ecco qua, possiamo creare gli oggetti che poi ci serviranno abbiamo le sfere per catturare i PAL i PAL sono i mostriciattoli li chiamerò PAL, ovviamente perché altrimenti qua è un macello più abbiamo vari strumenti da battaglia barra farming quindi abbiamo la mazza di legno per picchiare i PAL poi vedremo perché abbiamo il piccone per rompere i sassi e quindi farmare la pietra abbiamo l'ascia per la legna abbiamo l'arco abbiamo gli archi volendo perché poi c'è l'arco incendiario ok, quindi abbiamo anche le frecce tutto quanto quello che ci serve per farmare per farmare oggetti per craftare roba che ci serve per la base e anche per noi stessi ma anche per per combattere poi abbiamo qui il nostro computerino computerino che ci farà sia da box qui abbiamo la nostra bellissima squadra questo è il box dove depositare i PAL che magari non ci servono nella squadra e li vogliamo tenere diciamo al box più questi sono quelli destinati alla base che possiamo ovviamente cambiare mettere gestirci un po' e e qui abbiamo le missioni le missioni da fare per la base che vuol dire abbiamo il nostro livello della base che attualmente il mio è un 6 ma diciamo dovrei andare al al 7 queste sono le missioni che ci fanno aumentare di livello la base aumentare di livello la nostra base comporta avere dei bonus quindi più PAL disponibili all'interno della base stessa per poter lavorare più velocemente voi quindi partirete con uno slot ecco io ora ce n'ho 5 e inoltre ci permettono di avere degli altri upgrade tipo numero di basi disponibili da costruire aumenta quindi qualora arrivate al 7 potete costruire due basi che è comodo perché potete metterle in vari punti della mappa in modo che non dovete sempre fare 20 km per arrivarci e questi PAL questi qua che sono all'interno della base rimarranno sempre all'interno della vostra base e lavoreranno per voi in che senso adesso dormono perché di notte dormono di notte dormono nel senso che qui avete qua intorno avete la pietra avrete gli alberi insomma varie cose e ogni PAL ha dei compiti specifici all'interno delle funzioni io adesso un attimo che devo togliere un attimo un po' di pietra perché altrimenti non me muovo allora questo qua il gattone ok è utile per rompere la pietra per per prendere insomma pietra minerali e e quant'altro mentre le caprette le caprette vi trasporteranno i materiali quindi devono essere anche sinergici all'interno delle mansioni che devono svolgere perché altrimenti se voi mettete esempio solo caprette loro gireranno a vuoto all'interno della base e il tutto verrà messo in questo bellissimo deposito dove voi potete andare lì prendere la roba che vi serve e ce l'avrete già già pronta ovviamente i pall visto che rompono le palle giustamente oltre a il letto per dormire perché altrimenti se no si arrabbiano hanno bisogno anche del cibo e qui avete la mangiatoia dove dovete mettere costantemente cibo dentro in modo che loro quando sono stanchi vanno lì e mangiano qui su questo banco abbiamo la possibilità di riparare i nostri oggetti che si danneggiano quindi questo ci dà modo di non stare lì a crearci 2000 picconi ma ne basta uno solo poi quando si danneggia esempio poi può essere un arco può essere quello che volete si può riparare tranquillamente questo invece è il tavolo di lavoro per i pal non abbiamo ancora sbloccato ricette quindi questo diciamo sono le funzioni basilari ok principali della nostra base e dei nostri pal poi vedremo anche vedremo anche una cosa dopo come funziona tutto il discorso di leveling e quant'altro allora il nostro personaggio livella come potete vedere siamo a livello 8 livella sconfiggendo pal o catturandoli craftando oggetti e creando oggetti quindi più li ne creerete più prenderete punti esperienza più sconfiggerete o catturerete pal più aumenterete con l'esperienza e via discorrendo ma contemporaneamente l'esperienza verrà data anche ai nostri pal almeno quelli che stanno in squadra che succede però che i nostri pal qualora dovessero superare il nostro livello ok durante le lotte farebbero quello che vogliono quindi non ascolteranno i nostri ordini un po' come succedeva nei giochi pokemon che se prendevi un pokemon che superava il livello limite messo dalla palestra non ti ascoltava e qua succede praticamente la stessa identica cosa poi di notte ovviamente cala anche il freddo quindi ci stanno anche le condizioni climatiche che potrebbero potrebbero farci un pochino di danno allora aspetta lì c'è un qualcosa proviamo adesso così sfruttiamo anche la cosa proviamo a catturare quel quell'aggeggio nelle lotte contro i i pal selvatici adesso io non so ok è al 6 si può fare noi possiamo usare il nostro pal e allo stesso tempo combattere questo perché i pal eh selvatici non ci cagano di pezza in modo in modo normale qua noi ovviamente possiamo anche schivare e provare a catturarlo quasi dalla percentuale di cattura 74 no più saranno indeboliti e più aumenterà la percentuale di cattura no ma dai che che coglione ma sei suicidato ma sei sei un deficiente sei vuoi entrare dentro questa cazza ma io sto collabora è per un video collabora oh l'abbiamo preso perfetto a livello 5 senti tu mi hai rotto leggermente le balle però c'ha pure avvelenato dimmi che il veleno scompare dopo dopo un po' fra bro hello bene mi si era anche si era anche frizzato frizzato tutto allora dicevamo eccolo qua abbiamo il nostro D-Dream ogni pal ha le sue statistiche di attacco e difesa più velocità di costruzione in più ha abilità emosse durante le lotte come avete visto anche poi con la capretta non possiamo andare a scegliere le mosse da fai usare quindi il pal le userà a caso a sua a sua volontà qui poi quando un pal sarà esausto tipo lui ce l'avevo in in squadra ed era esausto in fin di vita ecco qua ve lo dice in fin di vita per far recuperare tutti i suoi PS noi dobbiamo metterlo nel box e aspettare questo countdown di all'incirca 10 minuti per fargli recuperare tutta la vita credo anche che sia dovuto cioè più punti salute ha più tempo dovremmo aspettare ma andiamo a craftare oggetti tipo le sfere noi possiamo fare una qua noi si costruisce perfetto abbiamo alto da poter costruire tipo la stoffa ecco la stoffa ne possiamo fare addirittura 9 e vediamo se qualche pal ci viene a dare una mano di buona volontà eccolo qua oltre al fatto che lui sta bruciando vivo ma viene a darci una mano per velocizzare il processo di creazione dei nostri strumenti e questo ci permetterà di aumentare di guadagnare punti esperienza sia per i nostri pal che per noi e aumentare di livello cosa comporta aumentare di livello aspetta c'è un casino ok c'è un'invasione in corso fermi tutti tocca facca azzotti ok quindi noi adesso si si combatte tocco tocco vai picchialo menalo menalo in modo prepotente vai porca di quella dove sta cazzo fa esplode vabbè ok successo successo un casino comunque ecco vi siete anche beccati st'invasione non era programmata dicevo aumentare di livello comporta che noi otterremo dei punti statistica un punto statistica per ogni aumento di livello e ci permetterà di aumentare le nostre statistiche quindi possiamo aumentare i punti vita la resistenza l'attacco la difesa la velocità delle attività quindi la velocità nella costruzione e tutto quello che poi comporta le attività da poter fare e il peso totale trasportabile all'interno della nostra borsa ma non solo all'aumentare di livello noi otterremo dei punti tecnologia all'incirca 6-7 punti per ogni aumento di livello questo cosa comporta con questi punti che noi otteniamo possiamo sbloccare le strutture creabili all'interno della nostra base tramite il banco di lavoro quindi tipo qua abbiamo il set di arredo per il soggiorno di legno set per la taverna di legno questo possiamo apparentemente creare è un po' un animal crossing possiamo creare quello che quello che più che più ci piace possiamo creare una mazza quindi desideri sbloccare mazza sì abbiamo un punto tecnologia abbiamo usato per questo andando avanti quindi sbloccando tutte le varie tutti i vari pezzi dei vari livelli della tecnologia ora io sto a tecnologia 8 otteniamo ovviamente roba più forte sia dal punto di vista tipo difensivo come l'abito per regioni calde regioni gelide che ci daranno una mano a sopravvivere in queste condizioni più le strutture più le armi più tutto quello che noi possiamo usare all'interno dell'avventura quindi non non pensate che voi accendete il gioco partite e avete già una magnum 47 in mano da poter usare contro contro i pal selvatici ma queste verranno sbloccate poi più avanti nel corso più salite di livello più sbloccherete oggetti e quant'altro detto ciò secondo me il gioco ha già adesso ha un buon potenziale nel senso che è divertente è carino è un gioco che sicuramente ti porta via tanto tempo è un gioco che tranquillamente più di 100 ore ma anche anche le fai le fai le fai tranquillo ed è un gioco sul quale si può lavorare un botto nel senso proprio a livello di di sviluppo del gioco stesso c'è una funzione multiplayer che per ora su su pc ha un limite di 32 giocatori questa funzione multiplayer cioè 32 giocatori nella stessa nella stessa mappa e su xbox di 4 giocatori quindi si possono fare cose insieme e tutto quello che comporta poi le funzioni di multiplayer ma questo è un gioco che si può sviluppare tranquillamente ampliando le mappe aumentando il numero di pal aumentando le cose che si possono fare le cose che si possono craftare tutto quello che quello che si vuole ok perché è un gioco tranquillamente che si può sviluppare nel corso dei mesi nel corso degli anni con nuove aggiunte e quindi è un gioco che potrebbe anche essere tipo non intramontabile però che non finisce mai abbiamo ovviamente delle missioni come vedete in alto sulla vostra destra abbiamo delle missioni da dover fare per ottenere comunque punti esperienza in più dei bonus eccetera eccetera però vi deve piacere il genere survival crafting e tutte queste cosine qua vi deve piacere perché altrimenti per voi sarà una rottura di balle specialmente l'inizio allora io l'ho scaricato e ci ho giocato un 2-3 ore dopo queste 2-3 ore avevo già fatto cose che poi ti possono permettere di velocizzare un pochino il tutto in che senso esempio senza che voi andate in giro a cercare le bacche o i cespugli di bacca per mangiare per voi e il mangiare per i vostri pal qua poi sbloccate tramite punti tecnologia il campo di bacche e quindi potete tranquillamente coltivarle qua e poi ci penseranno loro i pal vedi già cattiva che ci sta guardando come per dire che volevamo fa ci penseranno poi loro a prenderle e a portarle nel vostro deposito ho sbloccato la falegnameria la segheria invece di andare in giro rompere tutti gli albri ce l'avete direttamente qua avete 10.000 pezzi di legno praticamente disponibili poi c'è la cava di pietra stesso discorso senza che si mettono a rompere i sassi e tutto quanto ci avete là direttamente la cava di pietra questo velocizza parecchio il processo di crafting e tutto quanto però ragazzi ci vuole il tempo cioè ci vuole tempo per livellare per sbloccare le tecnologie per catturare i pal ci vuole tempo per tutto quindi se non è il vostro genere di gioco lasciatelo perdere se invece è un'idea di gioco che vi può interessare che vi può piacere è un gioco carino secondo me è un gioco carino valido specialmente per chi ha il pass che è gratuito quindi non ci deve manco andare a spendere spendere soldi però è figo è carino a me come idea piace e devo ancora provare la versione multiplayer perché non so sinceramente all'interno del multiplayer che cosa comporta il giocare in multiplayer se tipo si può lavorare insieme per sconfiggere un pal un boss chiamamolo così un pal davvero forte oppure se puoi andare a invadere delle delle basi avversarie di altri giocatori online oppure ci sono dei pal magari ecco una cosa che potrebbero mettere in futuro come i nostri giochi pokemon pal esclusivi per alcuni periodi dell'anno per alcune stagioni per alcuni eventi o magari solo su determinate isole perché no ultima cosa che ho detto prima che il giocatore può morire cioè il personaggio può morire all'interno dell'avventura quando e se doveste morire succederà una cosa ovvero tutto il vostro zaino ok quindi tutto quello che voi avete nello zaino indumenti armi tutto quanto respawnerà nel punto in cui voi siete morti ma quando dovrete respawnare il gioco vi dirà vi aprirà questa schermata questa mappa e vi dirà dove vuoi respawnare qui 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 voi ovviamente a inizio gioco cosa farete sceglierete qua dove avete la vostra base principale perché altrimenti perderete tutto perderete i pal perderete lo zaino perderete la base perché poi se voi respawnate qua è come se dovesse ricominciare da zero ok quindi sta cosa tenetela a mente anche se qui abbiamo vabbè abbiamo quell'aggeggio lì luminoso lì in alto non so se lo vedete che praticamente è il punto di trasferimento veloce quindi volendo si possono visitare altre isole per poi o altre zone per poi ritornare lì io ancora non l'ho fatto perché ho paura di fare una cazzata enorme e perché magari serve qualcosa per il teletrasporto e quindi rischiare di perdere le mie tre ore e mezza di di gioco ragazzi detto ciò questo è palward ho cercato di spiegarvi un pochino come come funziona fatemi sapere la vostra se l'avete provato se l'avete giocato cosa vi sembra dal gameplay se avete visto video live e tutto quanto noi ci vediamo domani con un nuovo video non su palward bacioni alla prossima ciao ragazzi ciao